Ma c'è un altro? Che becca di questo allora Wow, cos'è super finish? No, questo è bello Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Dragon Ball Z Quest'oggi vi mostro altre emote, ovvero come vedete già, Black Goku Adesso vediamo come si comporta Goku Allora, vediamo se c'è qualcuno sopra Posso vedo già qualche nemico I set movimenti sono gli stessi, sono il sbaglio, sì Vediamo con le prime trasformazioni, Super Saiyan Qua Super Saiyan Rosé Eccolo, Super Saiyan God, Super Saiyan Rosé, bellissimo Il terzo livello non lo fa Super Saiyan nemmeno Solo così ragazzi Il Super Saiyan Rosé allora alla fine Le euro si vedono bene Allora, vediamo la prima mossa com'è Cosa fa? Oh, bella animazione Bellissima Molto bella come animazione Guardiamo un po', va verso Freezer Eh, stavolta l'ha schivata Lo voglio vedere nuovamente Oh, sto Freezer qua mi sta facendo male Allora Dobbiamo di eliminare un'altra per tutte Freezer Allora Adesso proviamo a fare il limite drag Ah, bello Di Rosé Molto, molto bello Poi c'è Ultimate Kamenya Ok, come è sempre stato Wow, con Wow, meno male che ce l'ho schivata qua Poi c'è Super X Spirit Bomb Come questa qua Ah, sì È la normale Energia Sferica Va bene Massimizziamo Alla massima potenza di Goku Black Vediamo un po' come si comporta Ma è anche forte nei combattimenti Bella Guardate un po' com'è Bellissimo Spettacolari I colpi Vediamo questa mossa Se la prende a segno Sì, l'ho preso Oh, ma è favolosa Una bella Kamenya Questa qua purtroppo niente E qua fa sempre male Come colpi E signore abbiamo qui Black Coco Rosé E non si è 30 Contra la squadra Dei malvagi Ah, le mosse sono fighe Fuori due E' stato a caso La metà di due Beh, questo qua ormai Faccio una bella Kamenya E ciao Faccio un altro Che becca di questa Allora Cos'è super finish? No, questa è bella Allora, volevo provare McFreezer contro Black Goku Ma facciamoci subito La prima trasformazione Eccola qua Adesso sì Ma adesso sì Che gogo non spiazza BAM Vabbè che ti sta a mostra Va Preso in pieno E trovi solo un pochettino Di danno E non più di tanto Massimizziamo Black Goku Ed ecco qui Il vero scontro Mamma mia Questo che gogo qua Non scherzo E' fortissimo Anche nella forma Di Black Goku Vai con le mosse Ma nelle mezzine Sono qualcosa Di spettacolare Molto belle Molto efficace Anche questa qua E spera che Gengitama Non può mai Finire Ma distruggiamo Un'altra per tutti Il teaser qui Non può scappare Da nessuna parte Bella Ok Il teaser Non si arrende Noi speriamo Tutte le cammè Più potenti possibili Niente Ok Ormai mi sono innamorato Di questa mozza qua Ma carichiamoci Ah schivato Eh stai fermo E con i colpi Subito Lo metto A terra Bella Laura Di Black Goku Ok Gli attacchi Sono limitati Quindi Alla fine Ci spariamo Un bel Cammè Non è che Faccio grande danno Comunque Solo nella lotta Nella lotta Nella lotta Ne faccio Molto di più Eh infatti Vai Goku Vai Spirigiona Tua massima potenza Ah Spettacolo Ah Si Il cuore fa veramente male Oh Che succede Via Intanto lo attacchi Ah Quanti combi Ho fatto Mamma mia Manca Ho fatto caso No No C'è un bacio Dove Dove Per niente Ma è la fine Di Ma è giunta Sono ritornato alla forma normale Si è consumato tutta l'energia Fai questa suonazione Non in colpi Ma La rose Ora si E anche qua è fatto Dai Ultimi colpi Siamo a 530 di combo Vai Vai Mai Friis è giunto La sua ora Super camera Vai Ultimo E che pellaccio Che c'ha E beccati questo Ho visto Goku Ultrettinto Lì pure Quando lanci la camera Ma avete visto Il personaggio Di Becco Goku Si comporta Veramente bene Molto molto Bello Da utilizzarlo Bene ragazzi Spero che questo video Sia piaciuto Noi ci vediamo Nel prossimo video Con altri mod Su Dragon Ball Z Kakarot Alla prossima Ciao E tu non dimenticarti Di iscriverti Ti suggerisco Di vedere Questi video Sopra di me